Cicina, un 13 che porta buono. Giornata di solidarietà e di grande aiuto, martedì 13 aprile. Un giorno fortunato. Grazie al prezioso aiuto di molti volontari, il Banco Alimentare è stato coadiuvato dal referente Carlo Bertucci. Sono stati distribuiti per la provincia di Livorno oltre 30 tonnellate tra prodotti alimentari, prodotti donati al banco e prodotti per l'igiene della persona e per l'infanzia. Un grazie speciale ai volontari, alla società dispensa di campagna che ha messo a disposizione un capannone per il carico-scarico del cibo proveniente da Firenze, alla Caritas Giocesana di Livorno per il piazzale di scarico di Via delle Cateratte, all'azienda CDT di Cicina e al comune di Cicina che hanno supportato con la logistica.